Ciao Michela, secondo te ci sono dei segnali che possiamo cogliere rispetto alle evoluzioni delle grandi organizzazioni all'interno e rispetto alle risorse umane? Giulia, la domanda penso sia pertinente e al contempo anche urgente. Penso che i segnali siano piuttosto chiari e ne indicherei almeno quattro. Il primo riguarda l'intelligenza artificiale, credo proprio che nei prossimi mesi HR si dovrà occupare dell'evoluzione dei mestieri così come delle professioni e nello specifico come proprio si potranno trasformare diverse professioni oggi presenti nelle organizzazioni. D'altra parte, se è vero come è vero che comunque le aziende ad oggi stanno guardando anche alla sostenibilità più come qualcosa che ha da essere fatto per ragioni strutturali quanto per motivi sociali, è chiaro appunto che questo tema dell'evoluzione dei mestieri e di come riqualificare tutta una serie di professionalità e di conseguenza di persone all'interno dell'azienda diventa un tema cruciale per la sostenibilità sociale. Direi a tutti gli effetti un tema etico e sociale prima di tutto. L'altro tema che si sta avvicinando velocemente alla popolazione HR è il tema dell'intergenerazionalità. Il tema non è poco noto a HR, la domanda che oggi si pone di fronte alla famiglia HR e alle organizzazioni è come riuscire a integrare le generazioni tra di loro e generare un sistema neuronale nuovo in grado di costruire delle risposte diverse rispetto alle risposte attuali. Come se avessimo l'opportunità di generare, di creare un grande cervello organizzativo in grado di attivare e connettere le parti migliori, le unicità e le diversità di ogni generazione, di ogni genere, delle diverse esperienze e delle diverse culture. Questo è un altro tema che vediamo essere oggi presente e sul quale le risposte stanno evolvendo. Siamo chiamati effettivamente a costruire una nuova intelligenza intergenerazionale. Il ruolo di HR potrà essere proprio strategico in questo senso nell'indicare la strada proprio per riuscire a realizzarlo. Il tutto non può, a mio avviso, essere considerato se non a fianco al ruolo dell'intelligenza artificiale. Il terzo tema è il tema delle competenze diffuse. Questo aspetto potrebbe portare a immaginare un assetto organizzativo, assetti organizzativi molto diversi dagli attuali, molto più permeabili verso l'esterno, più influenzabili e decisamente più fluidi al loro interno, con strutture meno rigide. E anche forse con un concetto di gerarchia che è una gerarchia più legata alla responsabilità che al potere. È possibile che effettivamente nel mondo si stiano davvero creando dei sistemi molto snelli, ma al contempo ampi di competenze trasversali che non necessariamente apparterranno a specifiche generazioni, ma che probabilmente saranno il frutto dell'integrazione intergenerazionale e anche di genere. Ultimo, ma non ultimo, è il tema della sostenibilità. Oggi mi porrei questa domanda, come far sì che i tre temi di cui abbiamo parlato fino adesso diventino fluidi e lavorino a favore di una sostenibilità sociale, di cui le organizzazioni sono delle portatrici sane. Questi secondo noi sono i quattro temi, le quattro domande che abbiamo di fronte, temi sui quali alcuni stanno, come dire, annunciando delle risposte e altri stanno approfondendo e stanno guardando. Probabilmente in questo momento una strada possibile da percorrere è quella di confrontare le diverse visioni che hanno le organizzazioni e trovare delle strade efficaci che non sono ancora state battute. Grazie. 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 Grazie.